KTM è tornata, siamo qua con i modelli 2015 SX, ossia quelli della gamma cross. KTM si presenta qui con 5 diverse cilindrate, 125, 250, 2 tempi, 350, 250 e 450, 4 tempi. Tante sono le piccole modifiche che sono state fatte rispetto al modello precedente, a partire ovviamente dal look che si presenta molto più accattivante con le grafiche che riprendono la linea di quelle utilizzate dai team del motocross e anche il telaio che adesso è arancione, proprio come i team ufficiali. Oltre a questo, altre piccole caratteristiche sono i parastelli davanti che non sono più chiusi e sono aperti. In questo modo si può accedere facilmente in caso di manutenzione alla forcella, a differenza di quelli della passata stagione. Oltre a questo, diciamo, una delle modifiche più importanti che è stata effettuata è sicuramente l'attacco del link posteriore. Questo qua che era fatto l'anno scorso saldato, adesso viene prodotto tutto ricavato dal pieno. In questo modo la moto si abbassa e ha un'altezza sella di 5 mm inferiore rispetto ai 2014. Come va a influire questo nella guida? Nella guida ci troviamo con una moto un po' più seduta dietro, quindi ci garantisce una stabilità maggiore, oltre al fatto che ci sentiamo più comodi quando siamo a metà curva e iniziamo ad accelerare, perché riusciamo a trovare un grip maggiore. Oltre a questo, anche sull'anteriore sono state fatte delle piccole modifiche, il perno ruota è stato diminuito e anche i piedini forcella hanno un offset differente. In questo modo si è aumentata la già ottima prestazione che aveva tutti i KTM nell'inserimento in curva. Già era molto facile da inserire adesso ancora di più, sempre mantenendo un'ottima stabilità. Con questa configurazione, girando in pista, ci siamo accorti che riusciamo ad avere una sicurezza maggiore quando siamo in sella. Abbiamo provato l'intera gamma, tutte le cilindrate, partendo dalla piccola 125, la moto sicuramente più indicata per i ragazzi che arrivano dal minicross, o anche per chi semplicemente vuole divertirsi e vuole sentire l'odore della miscela. Il 250 a due tempi sicuramente è una moto più da esperti, bisogna avere comunque un buon fisico per riuscire a guidarla, perché ovviamente con tutti i cavalli in più che si hanno e la reattività del due tempi diventa magari un attimino difficile per l'amatore. Poi passando al 250 a quattro tempi, sicuramente una moto estremamente facile e adatta a tutti, sia l'amatore che al pilota. Magari per il pilota qualche modifica in più può aumentare le prestazioni e renderla perfetta anche per le gare. Dopo abbiamo provato anche ovviamente 350 e 450, delle due che sono molto simili, uno può pensare che la differenza di cilindrata non sia così grande, però a livello di ciclistica cambia completamente. Il 450 ha un motore impressionante, difficile da gestire, infatti se non si è allenati e ben preparati, si fa fatica soprattutto in uscita di curva a rimanere aggrappati al manubrio. Mentre la 350 ha un motore più dolce, molto più progressivo e gestibile. Ma non è solo questo, perché non cambia solo a livello di motore, nonostante entrambe condividano la stessa ciclistica, la sensazione di guida è che il 350 sia molto, molto più leggero e facile, molto più facile soprattutto nei cambi di direzione, nei canali, si sente meno, con un colpo di gas si riesce a cambiare traiettoria molto facilmente, rispetto al 4,5 dove bisogna avere una certa esperienza. Indubbiamente i risultati sportivi di KTM, che sta dominando nel cross europeo, nel mondiale, e anche oltreoceano in America, denotano l'eccellenza che è stata raggiunta su questi prodotti. E infatti, personalmente, ho preferito tra tutte le moto la 350, la stessa usata da Tonica e Rolli nel mondiale cross, perché è una moto che si adatta un po' a tutti i tipi di guida, sia a chi ha la guida magari un po' irruente e vuole quella botta di motore per uscire di curva, sia a piloti magari meno esperti, che però hanno voglia di avere un po' di motore, riuscire a chiudere i salti con facilità e avendo una guida ciclistica molto simile al 2,5, sentendo comunque una certa leggerezza. Alla fine di questa giornata di test ci siamo resi conto che uno dei punti dove c'è le maggiormente KTM è sicuramente le prestazioni dei motori. Su tutta la gamma abbiamo constatato che il prodotto è molto molto vicino al prodotto racing utilizzato dai piloti professionisti, quindi si può partire da una base e riuscire subito a partecipare a delle gare senza dover spendere ulteriori soldi per particolari modifiche. Ovviamente poi grazie al catalogo Power Parts KTM si può personalizzare sotto ogni aspetto questa moto. Infine nonostante sia stato migliorato ancora il comparto freni con un disco a margherita sia all'anteriore che al posteriore, a volte con temperature molto alte e in situazioni di sabbia come su questo tracciato di Ottobiano, a volte va un po' in crisi la pompa del freno davanti che tende a diventare un po' spugnoso. È una cosa di poco conto, però diciamo che se vogliamo trovare un piccolo difetto su questo prodotto è questo.